Cioè, tu, Caletti, hai sentito una notizia di ieri? Hai sentito una notizia di ieri? Eh, sbadigli, che hai sentito? Hai sentito una notizia di ieri? Hai sentito? Cioè, praticamente, che succede? Bolessea, no? È andata a portare una notifica a un colione, che neanche poteva detenere quel cane, e il cane, come a te, ha difeso il padrone e gli hanno dato la sbarato Caletti. Ora, io capisco che Bolesseotti sono frustrati, è incassati, perché intanto qua in Italia si arrestano uno, e il giorno dopo i giudici le mettono fuori. Però sbarare al cane non se la fa, Caletti, sei d'accordo con me? Eh, sì, certamente. Però, comunque, tu, ad ogni modo, Caletti, me la raccomando, se viene Bolessea, non te la... bravo, nascondatela così, non te la fa vedi, eh? Non te la fa vedi che te la sbarano addosso. Capito? Caletti? Eh, non so, è così, così. Se entrano ladri, invece, bomba, e gliela lasci. Bravissimo, bravissimo. Se entrano ladri, gliela lanci in bomba. Bravo, così, perfetto. Grande Caletti, sei il numero uno.